Il governo Renzi si presenta alla Camera dopo la fiducia incassata nella notte al Senato, poi si inizia a lavorare sul serio, ha scritto stamani il Premier su Twitter, subito il taglio del cuneo fiscale e lo sblocco totale dei debiti della pubblica amministrazione, alcune delle priorità indicate. E sarà convocato per domani o dopodomani il Consiglio dei Ministri, chiamato a decidere sulle nomine di sottosegretari e viceministri, in ballo 42 posti, tra i nodi più difficili da sciogliere la delega agli affari europei e quella alle pari opportunità. E in cima alle sfide del governo la ripresa economica, stamane ancora un dato negativo sul fronte del commercio. A dicembre, nonostante le feste, l'indice destagionalizzato delle vendite al dettaglio è diminuito dello 0,3%, calcola l'Istat, e nell'intero 2013 è sceso del 2,1%, è il calo annuale più forte almeno dal 1990, in flessione meno 1,1% anche i beni alimentari. Arresti domiciliari per l'ex presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Enrico Saggese, coinvolto in un'inchiesta della Procura di Roma su un presunto giro di tangenti, l'iniziativa dei magistrati dopo una serie di perquisizioni in alcuni uffici dell'Asi. Mandato d'arresto per strage contro il deposto presidente ucraino Yanukovych, datosi alla fuga, FMI, Stati Uniti ed Europa hanno annunciato aiuti all'Ucraina, la cui economia è in ginocchio. Il paese chiede 35 miliardi per evitare la banca rotta. Difficoltà di bilancio al Pentagono. Il segretario della difesa ha proposto di ridurre le dimensioni dell'esercito americano ai livelli di 74 anni fa, prima del secondo conflitto mondiale. Secondo il piano di Hagel, gli organici dovrebbero passare dagli attuali 522 mila soldati a circa 450 mila. Termina con due pareggi il venticinquesimo turno di Serie A. Napoli-Genoa 1-1, quattro gol e tre espulsioni in Parma-Fiorentina.